Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con la serie completa della Gang del Gusto, distribuita da Old Wild West. L'anno scorso avevano distribuito questa serie, ma i personaggi erano in 3D. Vi faccio scorrere il link qua sopra, così se vi siete persi il video della serie completa dei personaggi in 3D lo potete recuperare. Invece quest'anno hanno fatto i personaggi 2D, questo tipo di personaggi 2D che Dolci Preziosi chiama Tatak e magari è proprio il loro nome originale. I personaggi e le card che vedete sotto erano contenuti in questa bustina che assomiglia, che è tale e quale ad una classica bustina di figurine che possiamo trovare in edicola. Vedete contiene 2D conventosa più 4 cards. E questa è tutta la checklist della collezione. 6 personaggi, gli stessi personaggi della scorsa serie, perché la Gang del Gusto è questa. I personaggi sono questi, quindi i personaggi non cambiano, sono gli stessi, ma in versione 2D questa volta. Allora, la potete ottenere con il menu bambino di Old Wild West. Qui abbiamo John Peanut, eccolo qua. I personaggi sono fatti molto molto bene, l'idea è veramente originale e carina. Qui abbiamo Pata, eccolo qua. Poi qui abbiamo Dolce Luna, ecco qua Dolce Luna. Poi abbiamo secondo me il più bello, American Burger, eccolo qua. Molto molto bello, molto molto particolare. Guardate anche i dettagli dei personaggi, come sono stati fatti bene. Poi qui abbiamo Mr Chicken, che è il sindaco di Testi City, eccolo qua. E poi, infine, qui abbiamo Wildi. Wildi, Wildi, insomma. Credo che la pronuncia sia Wildi, ma potrebbe non essere nessuna delle due che ho detto. Comunque, eccolo qui. Con i barattoli di ketchup e maionese tra le mani. Una serie molto molto carina questa, ragazzi. Io vi faccio vedere anche le carte. Eccole qui. Questa è il retro, invece. Molto carine le carte anche. E credo si possa anche fare un gioco con le carte, ma non so che tipo di gioco. Magari forse le istruzioni ci sono dietro la bustina di figurine e io non l'ho notato. Comunque, adesso gli diamo uno sguardo per vedere un attimo. Vediamo un po'. Sì, come si gioca con le carte? Ecco qua. Qui c'è il regolamento completo. Beh, un'idea molto molto carina. I personaggi 2D sono fatti bene. È vero, sono gli stessi personaggi della scorsa collezione, ma del resto, ragazzi, la gang del gusto è questa. Quando hanno creato la gang del gusto, hanno creato questi personaggi e quindi la gang è composta da queste figure. E sarà sempre così, ovviamente, a meno che non aggiungano altri personaggi. Quindi ci sta che sono gli stessi personaggi, ma in una versione diversa. Questa volta, appunto, nella versione 2D. Loro dicono con ventosa, dolci preziosi, li chiama Tatak. Comunque, questa versione qui di personaggi e le garde sono molto carine, fatte bene. In più si può giocare con le carte, quindi per i più piccoli una bella idea. Per noi collezionisti adulti, invece, una buona, sempre una bella idea. Sempre una bella idea, perché comunque le figure sono molto carine e, insomma, esposte. Sono molto, risultano simpatiche e occupano pure poco spazio, quindi va benissimo così. Detto questo, ragazzi, iscrivervi al canale per non perdervi questo e tanti, tanti altri contenuti. Lasciate un bel mi piace a questo video. Commentate questo video, fatemi sapere cosa ne pensate. Condividete questo video con i vostri amici, se vi fa piacere. In The Box troverete i link alle pagine Facebook, Instagram e TikTok. Se volete, seguitemi anche lì. Sempre in The Box c'è il link al blog. Se volete, fateci un salto. E noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao, belli! Ciao, belli!